Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Tutti gli argomenti che ti stai chiedendo sulle celebrità saranno sul mio canale speciale per te. Per questo, non dimenticare di seguirci, mettere mi piace e condividere il mio video e condividere i tuoi pensieri nella sezione commenti. Cari telespettatori, Tagba Buyukustun, una delle attrici più amate della televisione turca, ha recentemente nascosto un curioso segreto sulle lettere sulla sua collana. La famosa attrice ha finalmente rivelato questo segreto e ha sorpreso il mondo dell'attesissima modella. Tuba Buyukustun e Engina Kurek sono diventati una delle coppie più famose della televisione turca con le loro indimenticabili interpretazioni nella serie tv Kara Para Ask. Tuttavia, questa amata coppia è diventata famosa per numerosi eventi misteriosi nella loro carriera e vita privata. Recentemente, le lettere sulla collana di Tagba Buyukustun sono diventate motivo di curiosità nel mondo delle riviste. La famosa attrice ha indossato la collana che ha attirato l'attenzione con le foto che ha recentemente condiviso sul suo account sui social media. Su questa collana c'era un nome o delle lettere speciali e tutti iniziarono a chiedersi cosa significassero queste lettere. Ma Tagba Buyukustun scelse di rimanere in silenzio e dimostrò che solo lei conosceva il segreto. Mentre il mondo delle riviste e i suoi fan cercavano di capire il significato delle lettere sulla collana, Tuba Buyukustun ha finalmente rotto il silenzio. La famosa attrice ha spiegato il significato delle lettere sulla sua collana rispondendo ad una domanda postale durante un evento a cui ha partecipato. Tuba Buyukustun ha detto che le lettere sulla sua collana rappresentano le iniziali del suolo dei suoi figli e dei nomi Maya. Allo stesso tempo, indossando la sua collana, ha dichiarato di aver sempre voluto sentire questi due nomi importanti vicino al suo cuore. Tuttavia, questa spiegazione cambiò il suo segreto con la spiegazione delle lettere sulla sua collana. Engina Kurek ha condiviso la dichiarazione di Tagba Buyukustun sul suo account sui social media e ha fatto un commento romantico con un significato bellissimo ricordando che ogni momento è prezioso. Questa affermazione ha rivelato ancora una volta quanto sia forte e romantica la relazione tra Tagba Buyukustun e Engina Kurek. Non dimenticate di seguirci per i post su Engina Kurek e Tagba. Ciao ciao!